Ciao a tutti ragazzi, sono Andri Rozza, bentornati sul canale. Oggi, ragazzi, nuova topo recensione con il numero 3556 del topolieno. Numero che vedremo tutto, chiaramente, dopo la sigla. Eccoci di ritorno, ragazzi, e qua c'è la copertina del numero 3556, scusate, come vediamo, con topolino immerso nelle nebbie, ovviamente tematica della storia delle nebbie del Myring, che presenta una storia appunto disegnata da Fabio Celoni, e peraltro è proprio Fabio Celoni a disegnare la copertina, come è ovvio. Quindi torna con le storie di Lord Eight Quack a disegnarle, quindi lo vediamo. Una copertina particolare, c'era la possibilità di prenderlo con la lucetta, la luce appunto per la lettore di topolino, io ho preso la versione classica, anche perché non me ne facevo nulla della luce. Ma adesso, ragazzi, ci buttiamo subito con le storie e partiamo subito da Lord Eight Quack, che presenta l'ora del terrore, topolino e le nebbie del Myring. Allora, ovviamente, ragazzi, questa storia qua è la classica storia delle ore del terrore, c'è il Myring, che è la città principale della valle del Maus Katonich, questa posizione dove ci sono le storie del terrore appunto, Myring viene presentata come una città angusta, piccola e piena di nebbia, dove abbiamo i nostri topolino, Pippo e Minni che stanno facendo questo giro, mistero, o meglio, topolino ha invitato Minni, che è molto contenta, si lamenta di non essere con Clara Bella. La guida, appunto, racconta del famoso ladro di ombre che era apparso tipo cento anni prima, ma poi dopo è scomparso e non si sa effettivamente che fine abbia fatto. I nostri intanto fanno questo viaggio dove vedono appunto il teatro delle ombre, poi vanno nello studio alchemico e la prigione dove effettivamente dice la guida che nessuno è mai fuggito da lì. I nostri alla fine hanno un'ora di pausa, si perdono nella città perché devono trovarsi poi nella piazza centrale e dove finiscono ovviamente nel negozio delle meraviglie del Dottor Piuma, il classico persaglio che ricompare in queste storie, dove alla fine Pippo compra un tappeto e i tre poi decidono di mettere delle monete nella bocca dei desideri che hanno visto ed espriano i desideri. Il topolino vorrebbe vivere nella città un secolo prima, Minnie ovviamente stare nei mari del sud con Clarabella e il nostro Pippo incontrare Lord Hayquad. Quando riescono Topolino si ritrova da solo ed effettivamente accade che lui è proprio tornato indietro nel tempo, va all'interno in una taverna dove chiede informazioni, ma proprio scopere di essere nel 1924 e si conclude così il primo episodio con un topolino veramente preoccupato. Poche pagine dopo, ragazzi, dopo la pubblicità di Ducktopia che ritornerà, ma ne parleremo poi, abbiamo il secondo episodio, eccolo qui, e quindi qua abbiamo Topolino che cerca comunque di tornare, trova un vecchio che gli dice appunto, gli conferma effettivamente che siamo nel 1924 e che è pericoloso aggirarsi, proprio perché il nostro Topolino incontra il ladro delle ombre che comincia a inseguirlo. Ovviamente il Topolino cerca di fuggire, si ritrova addirittura dentro il teatro e poi finisce nel laboratorio alchemico dove sfrutta appunto le ampolle per creare l'oro e cercare di combattere contro il ladro. Alla fine si ritrova a combattere nelle segrete e riesce a mettere, a imprigionare appunto nel cassone il nostro ladro. Il nostro Topolino ovviamente esce e cerca appunto una soluzione per poter tornare nel suo tempo. La soluzione appare appunto con l'apertura del negozio Le Meraviglie del Dottor Peci che era l'antenato appunto del Dottor Piuma dove va all'interno, sa già cosa deve fare e con la monetina riesce effettivamente a tornare nel suo tempo. Appare praticamente nel MyRink moderna ovviamente dove incontra Pippo che l'aveva perso di vista per qualche secondo nella nebbia, quindi ovviamente per l'ora è passato. Che cosa è successo? Che ovviamente la guida sta raccontando di fatto che il nostro ladro delle ombre è stato catturato da un Topo. Ovviamente è stato Topolino ma lui chiaramente è quello che ha modificato la storia. Nel frattempo Minnie ovviamente si ritrova un po' disperata perché ha perso praticamente di essere nei guai nei mari del sud perché ovviamente si è dispersa e non sa come, ovviamente per la cosa. E i nostri due, Pippo e Topolino, decidono di andare a raggiungerla dopo aver visitato. Si scrive così con il Lord Hathquad che racconta un pochettino del finale dicendoci che ci sanno le storie. Ovviamente vediamo di fronte a lui Pippo che l'ha incontrato finalmente realizzando questo diritto. Allora in realtà questa storia comunque rispetto a quella del Lord Hathquad mi è piaciuta molto perché comunque a parte che è divisa in due storie quindi ci sta da questo punto di vista e comunque rispetto alle altre l'ho apprezzato un po' di più. Nonostante questo non sono un grandissimo fan delle storie del Lord Hathquad però va bene così. Andando avanti ragazzi troviamo quella che forse è la curiosità un po' maggiore del Topolino e troviamo ragazzi le avventure del giovane Orazio in realtà e ce lo vediamo proprio qua con Cavezza, Strade, Futuro. Ovviamente Orazio Cavezza, il nostro aggiusta tutto. Lo vediamo proprio in queste prime pagine a rapporto con il preside perché gli dice che è destinato, tra virgolette, un talentoso potrebbe anche addirittura studiare all'università e lavorare per la NASA tanto che ha dei voti eccellenti come Norberto un ex studente appunto che lavora per la NASA. Però ovviamente il nostro Orazio sta lavorando anche da Capretti appunto come assistente garzone della giusta tutto e quindi c'è un po' il dialogo, intanto c'è chiaramente la consegna dei diplomi ovviamente si suppone di, si presse e parla a Orazio, di pensarci un pochettino al percorso. Nel frattempo gli propone appunto, gli chiede una cortesia di riparare quello che è il suo elettrodomestico che è impazzito. Orazio ovviamente va ma lo ferma ma in qualche modo dopo un po' di disastri chiaramente causati da questo aspirapolvo impazzito però ripararlo ma non trova una soluzione. Nel frattempo ovviamente la zia di Orazio sta cercando di convincerlo a leggere comunque anche gli opuscoli delle università e nel frattempo parla appunto con Capretti che va in pensione vorrebbe lasciare effettivamente a Orazio la sua bottega per poter comunque farlo proseguire in quello che gli piace. Nel frattempo appunto in città tutto c'è un caos completo di elettrodomestici che impazziscono. Ovviamente Orazio va ad analizzare il tutto e si scopre chiaramente che in questi elettrodomestici andando dal sindaco hanno tutti un microchip che è stato montato appunto dall'ente spaziale Calisota dove peraltro Norberto gli manda le indicazioni da questo punto di vista e si scopre che hanno degli sbalzi di tensione che fanno un po' modificare il tutto. Quindi risolve la questione e peraltro si prepara anche a salutare Capretti che sta vendendo effettivamente il suo negozio e gli racconta appunto di lui di essere un ingegnere quindi comunque ha studiato ma che ha apprezzato comunque di più il tutto legarsi comunque alle persone. Quindi il giorno dopo ovviamente con Orazio che dovrebbe appunto arrivare l'acquirente gli si presenta Clara Bella che vuole essere assunta come diciamo cassiera. Ovviamente rimane un po' di uso dal fatto che Orazio non sia lui ma Orazio a questo punto decide effettivamente di dire alla zia che ha deciso di proseguire con l'attività di Capretti tanto da assumere già Clara Bella. Quindi si chiude questa prima avventura molto interessante da questo punto di vista anche se Orazio è un personaggio che devo essere sincero non avevo mai approfondito così tanto. Andiamo avanti ragazzi con gli allegri messi di Paperino i modi della moda. Ritorna un pochettino le attività di Paperino. Stavolta viene messo in un atelier dove diciamo deve vendere tra virgolette dei vestiti e quindi in questa avventura qua si troverà dei clienti un po' particolari uno che non sa cosa vuole salvo poi comprare uno stesso vestito una signora molto pignola e ovviamente lui ha sempre problematiche perché poi chiaramente ognuno di questi personaggi è molto particolare. Infine nonostante tutto gli si presenta uno che sa già cosa vuole Paperino poi è infuriato perché vorrebbe aiutarlo ed essere convincente e poi andare un po' a fare risa appunto con l'acquirente perché non lo ascoltava tra virgolette ma voleva già comprare quello che voleva lui. Storia ovviamente corta che a mio modo di vedere è anche leggibile però chiaramente non aggiunge nulla di che. Andiamo ragazzi infine con le GM e la Pietra Migliare ovviamente dopo aver recuperato tutto tocca la Pietra Migliare che si trova effettivamente dovrebbe appartenere all'ex a Excalibur scusate e quindi tipo si pensa di tornare appunto nel Medioevo invece si arriva nell'epoca romana dove effettivamente è stata fondata perché la legge in realtà parte chiaramente su di lì con Artorius che doveva essere questo romano. Alla fine si scopre tra virgolette che secondo il manuale la Pietra Migliare dovrebbe essere il cippo calcareo del chilometraggio stadare quindi quello è quanto. Quindi cercano le informazioni ovviamente nell'antica Londra e vengono portati da Paperino Massimo che è il proconso ovviamente nipote di Adriano chiaramente l'imperatore e da questo punto di vista gli fa un test perché sono degli scalpellini in modo tale che poi vadano a lavorare. Fanno bene e questo è perché il nostro Paperino Massimo ha un lavoro importante da affidare. Nel frattempo Pico investiga ancora sulle pietre che parano e poi ci si butta ovviamente sulla spiegazione. I nostri devono recuperare il tutto praticamente dovrebbero modificare la pietra appunto e non distruggere perché hanno scritto Paperino Massimo al posto che è Imperatore Adriano. Purtroppo l'imperatore alias lo zione tra virgolette ovviamente arriva e vuole vedere la sua pietra e quindi il chip segrete. Nel frattempo Newton con il suo laser toglie un pezzo peccato che era settato sul marmo quindi fa disintegrare il tutto. I nostri riescono a fuggire ma il chip si spacca e riescono appunto a riportarsi nello spazio tempo appunto dove possono poi partire. Ma vediamo che nel finale c'è il nostro Tycoon che ha effettivamente una voce che li ronza nelle orecchie che potrebbe dargli molto fastidio. Vedremo che cosa succederà e i nipotini si preoccupano sul fatto che ovviamente il Paperino Massimo chissà che cosa gli sarà successo e se loro con questo intervento hanno modificato la storia. Quindi si chiude questo appuntamento. Da questo punto di vista secondo me è andato anche molto veloce questo racconto. Peraltro ci lascia un po' così ovviamente l'ha recuperato un po' nel finale sebbene ovviamente nella storia tipo sia molto molto simile alla alla storia precedente la parte precedente quindi per quello non l'ho apprezzata troppo però ovviamente questa è una mia opinione. Bene passiamo ovviamente alla settimana prossima dopo ovviamente ci sono le solite pubblicità ed elementi dove chiaramente andremo avanti con le storie della pietra della fortuna chiaramente e in realtà tra virgolette c'è rumori del silenzio che dovrebbe essere un'avventura di topolino da questo punto di vista per cui vedremo un pochettino quello che sarà il seguito del topolino. Per cui ragazzi per questo video è tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao Ciao